Maurilio Meschia, responsabile tecnico della società Volta Solar. Noi ci occupiamo, nell'ambito delle biotecnologie, della produzione di impianti per l'upgrading da biogas a biometano. In particolare i nostri impianti sono caratterizzati da un lavaggio con solventi organici del biogas per ottenere biometano. Si tratta di una tecnica nuova basata sull'utilizzo di molecole che sono state sviluppate con un lavoro di collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. La particolarità di queste sostanze è legata al fatto che consentono una facile rigenerazione a bassa temperatura, riducendo quelli che sono i consumi termici ed elettrici dell'impianto. L'impianto è particolarmente favorevole per applicazioni anche di funzionamento diretto con biodigestore senza la necessità di avere accoppiato un impianto cogenerativo per la produzione di una quota termica utilizzabile per l'impianto. L'aspetto interessante è un buon rapporto costo-capacità produttiva, quindi basso investimento adatto anche per applicazioni su piccoli volumi di produzione. Il risultato di questi tre giorni è positivo perché abbiamo avuto molti incontri con utilizzatori finali, interessati in particolare a impianti di piccola e media taglia, che oggi non hanno una risposta da altre soluzioni e quindi vediamo che abbiamo buone prospettive per il resto dell'anno.